Eeeh, ciao cari sono Atrix, signori bentornati cari del canale, siamo tornati finalmente su Warzone, me sono messo, vi ho fatto un po' di registrazioni, un paio di video guide e questa è quella che ne è uscito fuori. Come sempre sapete io sono un massimo fan di Hunter, ma non lo gioco da tanto tempo perché effettivamente Hunter non è in meta. Oggi regà me ci sono messo, ho provato una nuova versione di Land Hunter che credo che sia quella definitiva e voglio farvi vedere effettivamente le partite che ne sono uscite fuori. Land Hunter regà è un mazzo divertentissimo, conoscete i problemi e conoscete i pregi. I problemi effettivamente sono una scarsa versatilità a livello di card draw, una condizione molto importante quando effettivamente Hunter pesca in curva e gioca in curva, quindi giocare in curva e giocare in tempo per Hunter sono troppo importanti. Pescare cose che ti dano cose dal mazzo come i segreti, come il 3-1 che dà rush, tracking talvolta è importantissima. Se mancano queste cose regà la mano si installa completamente, l'avversario prende possesso della board e perdete il game, perché poi Hunter non c'ha removal, quindi non c'ha Silk or Tang removal. Oddio in realtà c'ha deadly shot, ma deadly shot è difficile da setà, soprattutto contro questi cazzo di rogue che mettono pezzi in board e che rendono deadly shot quando ve va bene un 50 e 50. Quando ve va male è asintotico al 20%, quindi non lo vincete praticamente mai. Vi faccio vedere questo mazzo cari che però tra le altre cose è frequentemente divertente e comunque rimane un mazzo molto buono. Ah, mettete like se... mettete like, insomma. Bunk 150 Legend pronto a consolidare la top con il mio amatissimo, devoto, pazzesco, bellissimo, Elander Hunter. La lista ragazzi ve la straconsiglio, chiaramente per tutti quelli che hanno dust, e scusatemi, carta di disposizione. Per quelli che hanno carta di disposizione dipende che carte vi mancano. Se vi mancano, che ne so, Veranus piuttosto che Bran o Regina Restrada, sono carte cari talmente forti che troveranno, secondo me, comunque gioco nel lungo periodo che secondo me le potete anche craftare. Se vi mancano più carte non punterei su questo mazzo, ma... ah, mazzi molto più forti. Gioca il 2-3, potrebbe essere Face, potrebbe essere Highlander, potrebbe essere Secret. Sono tutti mazzi, ragazzi, in realtà... Top tier 2. Il face si è stato... il face ha alti e basi, se capisci se è top tier 1 o top tier 2, però... Poca, poca roba. Perché mi si vede la cosa qua? Ok. Allora, buona la sap, terribile il fatto dell'avversario di aver attaccato, però effettivamente ci sta, nel senso che non so quanto effettivamente potrà giocarci attorno. Noi dobbiamo giocare attorno al segreto, andiamo chiaramente a trattare uno driver che attualmente è quello che ci dà più fastidio, perché probabilmente giocheremo la maga guerriera. E non voglio che me la tradico di no power. Vabbè, rega, il turno viene da sé. Giochiamo la maga guerriera, giochiamo Rattrap, che effettivamente contro questo mazzo non è male, eh. Ricordiamo, cari, che carte come linci permettono chiaramente il pop molto facile di Ratt. Potrebbe essere un Dragon Hunter, regà, e non sto scherzando. Un Dragon Hunter è una versione che ho visto anch'io, mentre stavo capendo, diciamo, quale deck utilizzare. Io qua, regà, tre danni non me li posso prendere, ovviamente. Che gioca, chiaramente, è un Dragon Fesa, un Dragon Aggro Hunter, effettivamente. No, che gioca quelle spell a 2 che fanno tre danni se c'è drag in mano, abusa viropower. Insomma, alla fine è una sorta di, 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 di mid tra l'Eylander e il Faze. Chiaramente gioca il ragazzo. Chi gioca in doppia copia, quindi questo, ragazzi, è sicuramente un Dragon Aggro Hunter, perché il mio sarebbe costato 4, invece ha un mana left, quindi ha giocato... Perché non ha giocato quello che costava 4? Non me riporta qualcosa? Perché ha fluttato un mana, se c'era quello che costava 4 faceva lo stesso turno? Non lo so, allestamente non lo sto capendo, ma non fa niente. Io, regà, qua, chiaramente, decido, ovviamente, di aggredire la board. Com'è che vinciamo sto game? Ebbè... Per come si è messa la situazione, il game lo vinciamo prendendo, chiaramente, possesso della board, effettivamente l'abbiamo già fatto, e vincer, chiaramente, con Bran, attaccando faccia. Credo che, soprattutto, grazie all'arma che ho settato, difficilmente tradderò. Questo, chiaramente, va traddato, e questo va traddato, e questo, ragazzi, chiaramente lo tradderemo. Quindi, non so se... Probabilmente mi sento rita per il turno dopo qua, ovviamente. Quindi, 8 danni faccia, traddiamo 7, lui potrebbe fare all'ish the hound, kill command, sono 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi, scelgo d'attaccare faccia, e traddo il mio 1, 1, per fare in modo, chiaramente, che all'ish the hound e kill command sono 6 mana per un totale di 8 danni, e quindi non può vincere. Avrei fatto il contrario, all'ish the hound e kill command sarebbe, chiaramente, stata little. Va bene tracking, noi abbiamo 8, 10, più 5, 15, 17, abbiamo 17 danni, levando il 7, 3, con il 7, 3 abbiamo, chiaramente, over little. Chiaramente, ancora little, perché il 7, 3 non me lo contesti più, e abbiamo vinto. Lui, chiaramente, regà, ha giocato, ha aggredito, finché è stato possibile, il Veranus, secondo me, è stata la core, la chiave, la giocata chiave della partita. Giocare Veranus, in uno spot che effettivamente, non era fortissimo, perché comunque, non era fortissimo, ci ha permesso di mettere, comunque, 7 danni in board, che ci hanno fatto vincere il game, perché avevamo Brand come follow up, no? Questo è abbastanza ovvio. Andiamo alla prossima. Vabbè, tornano i rogue, effettivamente, no? Come sappiamo, nel senso, non si possa troppo lontani ai rogue. Dai rogue, dai rogue. Va bene. Buono, chiaramente, Zebris, eventualmente la soluzione a Van Cleef, chiaramente, soprattutto in il game, la lì c'è comunque una carta sempre molto versabile. Zilax non è male, però probabilmente vogliamo qualche cardro, qualche carta che vada a tutora a qualcosa, perché altrimenti i regali ripeniamo sempre con una mano piuttosto stallata, quindi via le due carte, lasciamo le altre due, e speriamo che il rogue non ci faccia troppo male. Buona rat trap, soprattutto con rogue. Peccato che il rogue non abbia il coin, solitamente rat sarebbe molto più forte. Qua il dream quando giocate rat è che l'avversario giochi cose per poppar Van Cleef, evocate il 6-6, giocate Zebris, contestate Van Cleef e aggredite con la board, chiaramente, che ha generato, grazie anche al 6-6, grazie soprattutto al 6-6. Quindi, evitiamo, e giochiamo subito rat. Una carta nuova, ragazzi, su sto deck, che è il martello, no? Comunque il deck gioca qualche drago, Fiedi Dragon, gioca Veranus, gioca le strada, quindi sai, magari, contare sull'integrità in più non è male. Legal bow, probabilmente, è buono, quello chiaramente scompa con i segreti, uno vale piuttosto che l'altro, dipende, dipende, dipende come invece trovate voi. Decido di giocare in efficienza di mana, quindi non fare i low power, bensì giocare il martello, anche perché abbiamo doveccato Veranus, quindi potremmo, cioè, sicuramente l'arma garantirà una, un'integrità in più, no? perché Veranus comunque trova sempre spazio contro Rogue, è una carta, è una giornata a tempo molto forte, soprattutto quando avete le lynch in mano, perché potete permettervi chiaramente un doppio trade. Swing di arma, Firo power, buono, perché comunque non ha il miscreant, che è la giocata che solitamente vediamo in early game, giochiamo la Vespa, andiamo faccia, non ha senso swingare con l'arma, anche perché l'avversario non ha quasi mai removal, visto che ormai regala melma sul Rogue, non c'è gioca più, Zap sul 1-3, probabilmente il miscreant non aveva modo di attivarlo, allora questo miscreant, cioè il miscreant non aveva modo di attivarlo, per quello non l'ho giocato. Zap sulla Vespa in realtà a me mi fa pure quasi piacere, nel senso che va bene, niente, niente di sbagliato. Che vogliamo fare in questo turno? Credo che colpo, winglass sul Q1-4 non mi piace, quindi è vero che butto 4 danni, ma quell'iscreant regava a trattato, dà troppi problemi, soprattutto per le atti che evolvono, c'è fa cose sopra, lo taunta, diventa un problema, poi anche un 1-6 con taunt diventa un problema, noi qua vogliamo prendere a board, potremmo addirittura giocare la lynch adesso, per avere qualcosa in più che ci permette il trade con Veranus, alla fine va bene pure se me lo tradda comunque con l'arma, non è, non è un grosso problema. Arriviamo in uno spot in cui l'avversario farà probabilmente qualcosa, piuttosto che fare semplicemente lo power, va bene, il trade, si terrà probabilmente la key per giocare forse il toghi il turno dopo, va bene, va bene, è giocata comunque abbastanza brutta dell'avversario, noi non abbiamo modo di ripartire a meno che non facciamo un top deck decente, questo è un top deck più che decente, effettivamente, giocata ragazzi scontata, giochiamo lynch, giochiamo lui, tradiamo, qua chiaramente molto probabilmente ci prenderemo un bel flick in bocca, però è anche vero che lì sta 20 HP, quindi noi dobbiamo probabilmente, spero che sto stand che sfida non abbiamo fatto casino, eccolo qua il tog, va bene, chiaramente ragazzi quindi giocherò Veranus, ovvio, lui si prende altri 4 danni che a noi ci fanno estremamente piacere, la giocata di Veranus è scontata, qua abbiamo un turno molto forte cari, che è Veranus, approfittiamo chiaramente dell'arma che non pende integrità per pulire chiaramente anche il king tog, non voglio giocare assolutamente Zebris che ci servirà a questo spot probabilmente per una Fireball, quanti danni abbiamo il turno dopo? Abbiamo 3 di companion, 3, 6, più altri 6 fanno 12, no? Quindi praticamente noi settiamo l'ita per il turno dopo, perché la Fireball costa 4, a 9 mana grazie al fatto che abbiamo il coin, abbiamo l'ital in mano praticamente, tra la mano e l'arma ovviamente, anche se comunque l'avversario probabilmente qua concede perché non so effettivamente, oddio, in realtà giocherò la Spella 3, ok, chiaramente gioca il Miss Grant per evitare per evitare il mill, però insomma sono tre mana abbastanza buttati nel cesso, va bene, la prima ragazza è data, la prima ragazza è data, abbiamo stompato il roghi, comunque non ha pescato bene, ovviamente, al contrario nostro, e vediamo, andiamo avanti, vediamo un attimo quante gioche ci può dare ancora questo mazzo, ok, ok, Rexer, ancora una volta ragazzi dovremo conto probabilmente un Elander, la mano non è male, la mano non è male, probabilmente sceglierò di piccare solo un segreto tra i due, perché sai, effettivamente preferisco il segreto di tinnarmelo, peccato che, peccato che ne pesca un altro e che la Snake sarebbe stata molto più forte, credo che la Rat sia forte contro qualsiasi tipo di Hunter, poi chiaramente dipende sempre da come parte, Coin Drake, sicuramente il nostro, il nostro giocato, abbiamo una curva molto buona tra le altre cose, questo è molto 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 forte, famo Rat al turno 2, Griffone potremo fare al turno 3 piuttosto che Ursatron, la mano non è male, gioca segreto che chiaramente noi andremo subito a testare, al massimo anche un Esplosive, va bene, non è Esplosive, vediamo se è Pressure Plate, non è Pressure Plate, quindi sarà Snake, Rat, o Snipe, no? quindi sono questi i segreti che lui potrebbe effettivamente va bene Ursatron, va bene Ursatron, Snake darebbe fastidio, eh, cioè Snake effettivamente darebbe fastidio, però sai, qua possiamo fare trappola congelante e attaccare faccia per evitare il pop della Snake, però non giocare in efficienza, potremmo giocare l'Ursatron non andare faccia, oppure giocare il Grifone e pescare una carta e sperare che la carta, che il segreto non sia effettivamente Snake, perché attualmente il Grifone è molto forte per poter pescare una carta, la carta d'altre cose pescata è molto forte, ecco questa è una sfiga grossa, perché Snake qua mi rompe particolarmente il culo, trattiamo l'1-1 per evitare che lui possa giocare l'arma a 3 per contestare il mio 3-2, e avere un altro pezzo in bordo, quindi qua, purtroppo perdiamo la bordo, e potrebbe essere disastroso se lui riparte con un qualcosa, tipo, vabbè, la Corrutece non la può giocare, c'è quel mech di merda a 3-5, a 4 mana, che per me è incontestabile, la Fee si intraffa schifo, perché c'ha quell'1 in bordo, insomma, non un bello spot in realtà, non un bello spot, chiaro, se mi fai low power stiamo fine, se mi gioca qualcosa è un problema, perché in realtà l'unica cosa brutta che può giocare è questo, questo è terribile, non so nemmeno perché ci abbia pensato così tanto a giocarlo, questo è terribile, perché ora con l'hero power rischiamo di perder board, lui chiaramente continuerà a aggredire e noi ce la prendiamo lì nel culo, cazzo mi sa che è persa, ok, questa è molto forte, questa è molto forte, Zilax fa schifo, perché quel 3-5 è costo stabile, e quel 3-5 è disastroso, o prendo una lince per fare doppio trade al 3-5, ma probabilmente devo farla al turno 6, quindi sarebbe comunque troppo lento, va bene, afferra, giocheremo una freezing trap, anche se regà, abbiate pazienza, la freezing trap fa schifo, visto che lui ha preso un rush dalla 3-1, dipende effettivamente che rush lui abbia preso, perché si ha preso lince, fa lince, gliela sappo, rifa lince, spero che vada sotto la rat, anche se comunque lui qua potrebbe giocare a Zevris e spaccarmi i segreti, male, male perché avevamo sia Matt Bran, Alistrasa, il late, è il problema che abbiamo solo late in mano, e questo è problematico, perché tra volte vi mancano queste carte per proteggere il late, tra volte vi mancano carte invece per frontessare la board in mid, e questo è il problema dell'hunter effettivamente, no, come ho detto nell'intro, dipende veramente tanto dalle carte che ci abbiamo in mano, piedi dragon, hero power, tratta il 4-1, e mette segreto, ho perso proprio, cioè nel senso, anche quel segreto, che cazzo segreto, non va a faccia ovviamente, perché ha giocato ovviamente intorno alla, alla, all'esplosio, alla freezing trap, io qua rega devo attaccare, se è freezing trap, concedo, che devo fare, se non attacco sto sotto deadly shot, peccato freezing trap, se non fosse stata freezing trap, non dico che la vincevamo, probabilmente, avevamo uno spot in più per giocarla, e ce ne facciamo una pure contro War, è bello quando ci stanno mazzi sempre diversi, eh, quanto è divertente la cosa, abbiamo, tratta, abbiamo, 2, 3, 4 e 5, cioè onestamente, l'hunter deve partire in curva, vuole giocare in curva, io so, io sono servito fino al turno 5, ragazzi, è una cosa che mi piace assai, assai, tante cose che il tragello, rega, anche se non sfruttate, il potere, essendo 4 mana 3, 5, dà fastidio, cazzo, dà parecchio fastidio, vabbè, sicuramente giocheremo contro un, eh, Galacron Warrior, sono tutti Galacron Warrior, effettivamente, abbiamo anche un turno 6 molto forte così, ma a te rega, questa start è molto molto buona, molte volte, anche se è banale e semplicistico dirlo, è importante vedere il costo in mana delle carte, qualora esse siano giocabili, no, perché se troppo a te sarebbe stato 3 command, ovvio che tu non te lo tiene, però, quando i minion, e sono, possibili, diciamo, giocati in curva, raga, kippatevi, perché mette una pressione non indifferente, chiaramente qua, l'Ago Light è brutto da vedere, tra le altre cose, perché mi apre uno spot che, mi fa pensare che potremmo giocare contro, contro il Warrior, e purtroppo contro, contro il Warrior, senza Zulgin, perché il mazzo non ha Zulgin, perché effettivamente gli manca il Leech the Beast, no, non è facile, va bene questo, scelgo di valutrizzare, va bene, vabbè, nel senso, giocheremo al Leech the Hound, traderemo più possibile, quell'Ago Light, quell'Ago Light pure adesso, col Top Deck di Vimblast, ci permette un trade, è un turno molto, molto forte questo, molto forte, anche perché, ripeto, raga, che giocheremo adesso, continueremo a giocare in curva, al turno cinque possiamo fare due cose, vedendo la mano, o giocare il Coin, per giocare il Fragile e il Ropower, magari, che ne so, mette il 4-5, possiamo giocarci questo 50-50, no, oppure giocare, eccolo qua, infatti il 4-5, oppure giocare l'inseguitore, facciamo il Ropower, e tiniamo segreto, che potrebbe essere anche una Vising Trapp, che non è male, e tra le altre cose, ok, vabbè, ecco, il Top Deck di Bran, credo che la giocata è il seguitore di Ropower, anche se flutteamo umana, poi facciamo Coin, Siamat, into Bran, e credo che questa, regà, è la giocata più forte, poi, ripeto, tra le altre cose, se dovessimo prendere, per caso, una Vising Trapp, non sarebbe male, visto che quel 4-5, li ritorno in mano, ed è buono, ed è buono, perché comunque rimaniamo con la board, segreto è Freezing Trapp, segreto è Freezing Trapp, ma ancora l'avevo visto, segreto è Freezing Trapp, ah, probabilmente l'avevo visto nel Deck Tracker, per cui non l'ho checcato, va bene, c'è un turno di merda, che fa lui, al contrario noto, che ripartiremo con Siamat, e il Galatron Warrior, amici miei, anche se mi sembra una sorta, questo è un deck strano, come Warrior, non dovrebbe avere soluzioni, a meno che non gioca il drop a 3, il 2-3, evoca un Lakay, prende un Lakay in mano, gioca il Lakay con la spell, e trova un removal, che potrebbe essere, no, quello che fa 4 danni, no, perché non basta, execute, perché non sia l'unica modo, che contesta quel 6-6, o Shislem, scusatemi, anche Shislem contesta il 6-6, perché sono 3 di armor del 2-3, 2 di armor del 1-3, più Shislem che contesta il ragazzo, però si poppa la rat, quindi comunque è buono, cioè deve fare una giocata, in cui deve contestare il 6-6, senza poppa la rat, non avendo probabilmente Shislem, o execute di main, perché è un Galakron, cioè non è un Galakron, ma quelle lì, il Corpore mi fa capire, che comunque è una sorta di midrange, di tempo, di agron, si è capito, Aldo mi stai chiamando, mentre sto facendo un video per te, allora c'è execute, è un Highlander per forza, regà in uno stesso mazzo, non possono convivere, execute e Corpore, se quel mazzo, è Highlander, vabbè, le metti, però, vabbè, insomma, quindi se il mazzo, ragazzi c'è execute, c'è anche play of death e Brawl, devo mettere massima pressione, anche perché la mia mano, è una mano piuttosto morta, nel senso che è una mano sicuramente buona, abbiamo possibilità di fare, Zeranos lì, c'è il turno dopo, no? Perché lui potrebbe qua andare di Ziliax, effettivamente, fa Boveranos lì, c'è quelli 8 danni, li ricontiniamo a fa faccia, ovviamente, cerchiamo di vincere, grazie Dobbe, che mi serve la regina, Lestrasa, qua per chiudere la partita, tra le altre cose, devo stare molto attento a Brawl e a Play of Rat, quindi neanche la regina Lestrasa, potrebbe essere soggetto a questi rimuovoli, però prima la gioco, ovviamente, su Arson funziona così, prima la giocate, più alta è la possibilità che l'avversario, non abbia le carte che servono, per contrastarla, lui comunque continua a giocare, effettivamente, intorno a Rat, giustamente, questi 8 danni, comunque, non gli ritoglie nessuno, questo è un draw terribile, dell'Orsadron, perché, come probabilmente state notando, abbiamo tutti e tre i necchi in mano, che compongono il mazzo, quindi, tutti e tre i necchi in mano, che compongono il mazzo, fa in modo che l'Orsadron, non peschi un cazzo, però, se ci pensate, la guardate a 360, è comunque un turnotto decente, Orsadron Ziliax, cioè, comunque, ragazzi, sta a bordo è forte, io dubito che il ragazzo abbia il Super Collider, potrebbe averlo effettivamente, ma ne ha in uno per, perché, ripeto, il mazzo ragazzi, comunque, ha di base aggro, questo è Brawl, ok, questo è Brawl, Spero di vincere 50 e 50, qualsiasi dei due pezzi, mi rimanga in influente, cioè, il 7-6, o l'8-8, hanno lo stesso valore, cioè, 7 danni piuttosto che 8, è poca roba, vabbè, e vi farò chiaramente, Ornia di Morte è un draw buono, soprattutto adesso, che stiamo andando, fondamentalmente, per la Little, potrei giocare anche Flagello Ziliax, regà, ma Flagello, sono 5 danni, e come ben notate, se l'avversario mi contesta a sabord, molto probabilmente, non avrà in mano sufficiente, per metter pezzo, e quindi ragazzi, col Flagello, io faccio ulteriori 7 danni, e quindi, non voglio magnetizzarlo, perché sarebbe stupido a fare, anche perché, se lo magnetizzo, stiamo sotto comunque, contro il, sotto il Super Collider, che altro dia fa, c'ha senso, abbiamo, ok, credo che, ah ma, comunque lui è solamente Pleco Fratt, cioè, Pleco Fratt, a meno che non hai Warpath, è praticamente incounterabile, lo dicevo, anche avesse trovato Warpath, troppo il draw D2, ecco la combo, di, di Pleco Fratt, avremmo avuto il 6-6, avremmo fatto il titano, amori miei, questo è l'Elander Hunter, spero ovviamente, vi sia piaciuto, se si fosse lasciato un like, un commento, una condivisione, noi ci vediamo alla prossima, e ci vediamo come sempre, ogni sera, su Twitch, nel mentre, un buon prossimo di serata, un grosso abbraccio, e bella.